Enesimo appuntamento con il Giubileo della Misericordia promosso dal Cardinale Sepe. Stamane, in Duomo, nella Cappella di Santa Restituta, si è svolto il Giubileo della Curia Arci Vescovile. Accanto al Cardinale Metropolita di Napoli presenti anche i Vescovi Ausiliari Monsignor Lemmo, Monsignor Acampa, Monsignor Angherami. Nel corso dell'Omelia il Cardinale Sepe si è rivolto ai presenti ricordando il ruolo del buon cristiano come lavoratore, portatore di valori cristiani e come buon padre di famiglia. Poi un interessante passaggio dell'Omelia sul significato e il rispetto dell'amore per il prossimo. Il Cardinale Sepe ha poi ricordato che anche se il Giubileo sta per terminare, esso stesso non finirà, ma anzi proseguirà nella vita e nella quotidianità di chiunque, soprattutto di coloro che sono buoni cristiani e buoni di cuore. Grazie.